L'emittenza locale rischia di essere azzerata e questo l'appello e questo l'allarme lanciato dal sindacato ma anche dagli editori abruzzesi in virtù della DPR 146 del 2017 che appunto penalizza una serie di emittenti che non rientrano in una graduatoria, che rientrano in una graduatoria ma che stanno basse in quest'ultima graduatoria. Un appello al ministro del Mese, un appello a Di Maio da parte degli editori abruzzesi e da parte del sindacato dei giornalisti abruzzesi a cui aderisce anche il Consiglio regionale. Come? Aderisce il Consiglio regionale c'è una proposta che io porrò all'attenzione e all'ordine del giorno nel Consiglio regionale di oggi dove si dice in sostanza che non va bene togliere il pluralismo dell'informazione in Abruzzo. In Abruzzo come in altre regioni italiane dove attraverso la pubblicazione di questo decreto verrebbe meno il finanziamento che permette, il piccolo finanziamento che permette a queste tv di sopravvivere. Quindi non va bene vuol dire rimettere di nuovo il monopolio dell'informazione. Sappiamo in questo tempo che cosa vuol dire l'informazione soprattutto con la manipolazione che c'è sul sistema digitale. Quindi diventa di fondamentale importanza far rimanere, aiutare soprattutto, ma sostenere le emittenti locali regionali perché garantiscono un'informazione plurale ma soprattutto perché riescono a dare un'informazione nel dettaglio, nel medio e nello specifico. A questo aggiungo anche che c'è tanta di quella occupazione nelle tv locali che verrebbe meno. Quindi non va bene come se una piccola e media industria nel nostro territorio regionale venisse a mancare. Quindi le istituzioni se ne devono far carico. Io proporrò un ordine del giorno da inviare al governo e quindi al ministro del Mese, il ministro Di Maio, di farsi carico di questa situazione che riguarda non solo la regione Abruzzo ma tutte le regioni d'Italia per risolvere sia il problema occupazionale ma soprattutto quello più delicato che è l'informazione plurale, il dettaglio dell'informazione puntuale ma soprattutto non far rimanere nelle mani di pochi l'informazione. Ricordo soprattutto ciò che sta succedendo oggi nel settore del digitale. A questo proposito il presidente del consiglio regionale Di Pangrazio si era impegnato fin dall'inizio del suo mandato e ha molto caldeggiato una legge regionale sull'editoria che però ancora non vede la luce. Quali sono i problemi? Ma non ci sono problemi. Io ricordo di aver presentato la legge, averla concordata con l'ordine dei giornalisti, poi ho fatto un passaggio successivo con il sindacato dei giornalisti regionali, legge depositata. Ricordo solo che esponenti del Movimento 5 Stelle si schierarono contro in commissione con un voto contrario. Pur vero che noi abbiamo la maggioranza ma lì si cercava la condivisione perché è una legge che riguarda tutti, non riguarda una parte istituzionale della nostra regione ma riguarda tutte le rappresentanti istituzionali. Mettemmo un'economia mi pare di circa 100.000 euro, 90.000 euro con i risparmi del consiglio regionale, ci fu questa forte opposizione, da lì si produsse un'altra legge che in sostanza bloccò un po' l'iter della prima presentata da parte dell'ufficio di presidenza. Io sono stato sempre un assertore che l'informazione nella nostra regione va garantita, va sostenuta, va soprattutto supportata perché mi rendo conto quando sia difficile fare il giornalista ma soprattutto mi rendo conto quanto è difficile per i piccoli editori e quelli anche un po' più grandi sostenere i costi per garantire occupazione e informazione plurale. Il mio impegno è stato un impegno serio, fatto per bene, regolare ma soprattutto all'insegna della lealtà. Probabilmente altri consiglieri pensavano che quella fosse una legge che serviva a qualcuno, non hanno capito che è una legge che garantiva soprattutto il sostegno ai giornalisti, li regolamentava ma garantiva anche il sostegno alle piccole testate giornalistiche e ai piccoli editori.